Ciao ragazzi, video importantissimo, parliamo di Lazio Genoa velocemente e poi vi dirò una cosa importante Allora, buona partita, ieri si sono visti tanti miglioramenti e si nota che il morale si è rialzato dopo la vittoria in Coppa Italia con la Salernitana A proposito, godo, vendetta con la Salernitana, non ho mandato giù la sconfitta di ottobre Non sono a casa mia, sono nella casa in campagna Volevo dirvi comunque che ieri si sono visti tanti miglioramenti, non l'ho visto il primo tempo, ho visto un po' di secondo tempo Mi aspettavo una sconfitta, però dicono che abbiamo giocato bene Ieri sicuramente si sono visti dei miglioramenti, abbiamo giocato discretamente anche in quel poco di partita che ho visto Abbiamo fatto un bel gol, bravo Melegoni, a cui auguro di diventare forte perché le potenzialità le ha Per il resto complimenti alla Lazio che sicuramente ha fatto sua la partita Però il Genoa se l'ha giocata, quindi bravi ragazzi Chiaramente una sconfitta, però bravi ragazzi Sicuramente meglio del derby, sicuramente meglio che tutte le partite precedenti A parte forse quella con Udinese Parliamo adesso invece del cambiamento che subirà il canale Per quanto riguarda il Genoa nessun cambiamento Continueremo a parlare del Genoa CFC Emiliano continuerà a parlare del Genoa CFC Tranquilli Per quanto riguarda invece il discorso Altri video comincerò a postare un po' di video divertenti Sul campanilismo ligure, sugli affari miei Quindi, che ne so, magari parlo di giornate che ho vissuto Che ne so, di condividere un po' ogni tanto qualcosa anche con gli iscritti Ho detto questo, meglio che mi sbrighi perché ora non sta passando nessuno Ma il primo che mi vede dici ma questo è pazzo Ciao a tutti ragazzi, sempre Forza Genoa